sì infatti di questo stavamo parlando sì disagi ci sono proprio per le macchine non sappiamo da dove girare magari a piedi così è facile attraversare ma con la macchina e cielo vincolo fosse là sotto ma vedremo ora iniziando le scuole a settembre non so che tempo che tempi avranno loro a lavorare grazie a tutti